Era definito, e sembra che una volta si definia gli stesso, il Verne italiano, ma tra lo scrittore francese ed Emilio Salgari non c'era molto in comune se non gli aspetti esteriori. La popolarità e la prolificità, infatti proprio una delle fondamentali caratteristiche di Jules Verne, la fiducia nel progresso scientifico e tecnologico, nell'italiano si trova poco, a eccezione di qualche macchina volante, ad esempio nei romanzi I re dell'aria e nel suo seguito I figli dell'aria, o nei racconti alla conquista della luna e la stella filante. L'unico romanzo alla Verne che Salgari scrisse è Le meraviglie del 2000, un'opera curiosa e interessante, sotto vari aspetti. Intanto fu commissionato all'autore veronese da Bemporad, quando questi era ancora sotto contratto condonati. Venne redatto del tutto verosimilmente nel 1903 e pubblicato dall'editore fiorentino nel 1907, quando il vecchio contratto era ormai scaduto. Il romanzo avrebbe dovuto essere pubblicato in origine con lo pseudonimo di Guido Altieri, lo stesso dei due racconti sopracitati, ma alla fine non ci fu più questa necessità e il testo apparve con la firma esplicita di Emilio Salgari. In particolare dello pseudonimo forse spiega perché nelle meraviglie del 2000 ci si trovi di fronte a un'inedita esposizione di idee sulla filosofia, la politica, la storia e la scienza, altrove non riscontrabili, proiettate nel mondo del 2003. Un romanzo, questo, spesso svalutato e quasi ridicolizzato dal punto di vista avvenieristico. A leggerlo con attenzione però non è esattamente così. In realtà la timidezza fantascientifica di Salgari, se la vogliamo definire tale, si manifesta solo per i mezzi di trasporto, in quanto non superano i 150 km orari di velocità, quelli aerei e 300 quelli terrestri. Viceversa nelle pagine che seguono si possono trovare molte invenzioni nuove per l'epoca. Televisione, pasti in pillole, abiti in stoffa vegetale, posta meccanica, fabbriche robotizzate, città sottomarine, treni ad aria compressa, ma anche l'anticipazione di temi come la sovrappopolazione, il pericolo dell'estinzione di specie animali, il ricorso alle energie alternative, la possibile emigrazione su altri pianeti. Ancora più interessanti sono alcune prefigure configurazioni politico-sociali, ad esempio l'immagine di una grande Italia che ha riconquistato non solo Trentino e Istria, ma anche Dalmazia, Nizia, Corsica e Malta. L'indipendenza di Ungheria e Polonia in Europa, la disintegrazione del Commonwealth britannico, il fallimento del socialismo, la soluzione del problema del terrorismo internazionale, all'epoca costituito dai cosiddetti anarchici. Colpisce infine il tono di scetticismo, quasi di allarme, che nella sostanza pervade il romanzo nei confronti dei progressi tecnologici, per i loro riflessi sull'uomo, una perplessità tanto forte che porta Salgari a immaginare la società a cento anni nel futuro, a tal punto condizionata dall'elettricità, che satura l'aria da essere costretta a una perenne fretta, angoscia, stress, frenesia, a un correre continuo, e magliene incoglia gli sfortunati visitatori ottocenteschi che non riusciranno a sopportare questo logorio della vita moderna, mentre invece noi che nel nuovo millennio viviamo, puntini puntini, di Gianfranco De Turris. Grazie a tutti.